Questo è un libro di 24 racconti, il Padale Gargano, è ambientato sul Gargano e è nato per un dubbio motivo, anzitutto per l'esigenza che ha un iscrittore di raccontare ciò che conosce meglio quindi i profumi, le sonorità, anche le fattezze di luoghi che ha sempre visitato nel mio caso anche se sono solo nato sul Gargano ci sono sempre stato, ci sono sempre tornato nel corso della mia vita quindi si può dire che ho respirato l'aria garganica c'è la voglia di raccontare anche un territorio che offre molti spunti di riflessione interessanti soprattutto legati alla fede e alla superstizione alcune storie mi sono state tramandate dai miei parenti, quindi anche dai racconti della nonna che affermava di avere visto l'ombra girarsi per il cimitero di San Marco e Lamis la sera quando il cimitero era chiuso con mio zio, questa cosa la sanno in pochi che afferma di avere fatto all'autostoppo un'indemoniata il libro è questo qui, è disponibile in tutte le librerie Mondadore, Feltinelli e d'Italia oppure naturalmente ci sono l'infinita quantità di canali telematici a disposizione quindi IBS, Amazon e le piattaforme online iscriviti al nostro canale